Il Sondrio gioca bene ma spreca tantissime occasioni e non riesce a mantenere alta la concentrazione per tutta la partita. I valtellinesi portano a casa un solo punto nell'importante sfida alla Castellina contro la Cobb 91 e scivolano al penultimo posto in classifica. Il vantaggio del Sondrio nasce tutto in casa Olivares. Victor entra in area e serve il più invitante degli assist al fratello Raul che non sbaglia. Ma dura poco la loro gioia. Cross al centro dei milanesi, la difesa del Sondrio si muove male, Manici con uno spettacolare tiro al volo fredda un incolpevole Lassi. Le cose sembrano rimettersi a posto per i biancazzurri, per l'occasione in maglia rossa, quando il portiere avversario Ciabattini, è il caso di dirlo, ciabatte il pallone su rinvio e regala palla a Chilafi che con un pallonetto non banale firma il 2-1. Il Sondrio è in controllo e potrebbe chiuderla quando l'arbitro Ossoli di Monza pischia un rigore per fallo su Raul Olivares. Ma Ciabattini si riscatta dall'errore precedente, para il penalty, battuto male, e tiene a galla i suoi. E così inizio secondo tempo arriva il gol del definitivo, 2-2. Cesarotti colpisce il palo, Manici, ancora lui, è il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone e a spingerlo in rete.